Musica Scusate il disturbo, ma la cosa che dobbiamo dirvi è che è importante, crediamo non solo per noi. Siamo genitori e insegnanti e vogliamo dirvi che la scuola pubblica di tutti sta morendo, sta subendo un'aggressione senza precedente. Sui messaggi che distribuiamo sono indicate le ragioni di quello che stiamo dicendo. In poche parole, stanno tagliando ore di insegnamento, insegnanti e risorse economiche alla scuola pubblica. Tutti devono sapere che una scuola pubblica sempre più povera prepara una società più ignorante, più divisa e più insicura. Contiamo che anche voi siate sensibili al disastro cui va incontro la scuola dei nostri figli, dei vostri nipoti, la vostra scuola ragazzi. Contiamo anche che voi ci aiutate a informare tutti di quello che sta succedendo. Raccontate a tutti la scena a cui avete assistito perché tutti devono sapere. Grazie per l'attenzione e noi proseguiamo il nostro Cire per difendere la scuola di tutti, la scuola nostra e per la costituzione.